Il nostro candidato sindaco Matteo Trattilla con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio venite tutti nel Movimento 50 stasera alle ore 18 in classe Matteotti ci sarà il nostro candidato sindaco del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio con i candidati alla Camera Comunale e alle municipalità ah 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 ah